Ciao a tutti e benvenuti all'oroscopo di oggi, 8 luglio. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per voi in questa giornata. Amore, lavoro, salute o fortuna, lasciatevi guidare dalle previsioni astrologiche di oggi. Segno ariete. La luna inizia il suo viaggio sereno, portando con sé una nuova opportunità per ritrovare la pace perduta. Se ti senti annoiato e demotivato, prova a introdurre alcune variazioni nel tuo programma quotidiano. La routine e la monotonia non sono parte di te, quindi cerca di creare un'intesa con il tuo partner per uscire da questo stato. Siete pronti a portare la vostra relazione a un nuovo livello di intensità e passione. Mostrate il vostro carattere, anche se potrebbe essere difficile in pubblico. Non soppremete la vostra vera natura per piacere agli altri. In famiglia, cercate di essere più indulgenti. Se siete in vacanza, non pensate al lavoro che vi aspetta al rientro. Fate un bilancio dei progressi fatti insieme al vostro partner e pianificate il prossimo passo. È il momento perfetto per iniziare una nuova fase, caratterizzata da momenti di profonda intimità e comprensione, che rafforzeranno ulteriormente il vostro legame. Per i single, venere in posizione favorevole donerà un senso di equilibrio e una maggiore capacità di comunicazione. Vi sentirete pronti ad affrontare scelte mature, prendendo anche nuove responsabilità. Segno Toro La luna dissonante porterà alcuni cambiamenti nelle tue relazioni con gli altri. Stai attento a come ti rapporti con loro e non temere, presto arriveranno notizie positive. Man mano che farai progressi, imparerai a gestire meglio le tue finanze. Stai lentamente uscendo dall'oscurità in cui è rientrato lo scorso inverno, ma non correre, devi procedere a piccoli passi per ritrovare la luce. Dedicatevi completamente alla vostra dolce metà, concedendovi momenti di intimità totale. Questo sarà il modo più efficace per ritrovarsi e discutere quei problemi che avete accantonato per troppo tempo. Per i single, le stelle vi spingeranno a riflettere profondamente sui vostri desideri. Questo periodo potrebbe rappresentare una significativa crescita interiore, durante la quale sarà fondamentale ascoltare il vostro cuore. Sul lavoro, riceverete una spinta di energia positiva che vi permetterà di affrontare con successo i compiti della giornata. Vi sentirete come alleggeriti e sarete persino più sorridenti del consueto. La vostra forma fisica e mentale sarà al top. Gustatevi le giornate facendo ciò che avete solo immaginato per mesi. Segno gemelli Questa settimana si presenta particolarmente promettente su tutti i fronti. Nei prossimi giorni potresti ricevere una chiamata inaspettata o un'offerta di lavoro concreta. In amore, preferisci le relazioni con persone di altre città, dimostrando che non hai bisogno di un partner che ti stia vicino 24 ore su 24, ma preferisci avere il tuo spazio e la libertà. Il destino sembra avere in serbo per voi un lunedì un po' difficile. La vostra relazione potrebbe richiedere un po' più di attenzione e impegno da parte di entrambi. Cercate di essere comprensivi e diplomatici. Un approccio equilibrato vi aiuterà a mantenere l'armonia e a risolvere eventuali problemi con il partner. Per i single, rallentate il ritmo frenetico e dedicatevi a mantenere in forma il fisico. Prendetevi una pausa anche per riflettere sugli obiettivi a lungo termine, calma e riflessione saranno i vostri alleati più preziosi per trasformare una giornata negativa in una positiva. Segno cancro Con il passare dei giorni, si avvicina il momento del grande risveglio. Nuovi impegni proficui, bandi e progetti importanti stanno arrivando. In amore, devi essere paziente e cercare di capire le esigenze e le tempistiche del tuo partner. Non comprendere le sue necessità potrebbe portare a un allontanamento anziché a un avvicinamento. Un buon periodo si profila per voi del segno. Con il partner, vivrete momenti di quiete e di comprensione che rafforzeranno la qualità del vostro legame. Non mancheranno attimi intensi ed emozionanti, come una dolce melodia che riempie l'aria, trascorrerete una giornata di tranquillità, dedicata a ciò che rende felice la coppia. Per i single, l'entusiasmo per nuove emozioni e di avventure scoppiettanti sarà sempre presente in voi. Vi sentirete attratti da una persona esteticamente molto piacevole, se sono rose, fioriranno di sicuro. Sul lavoro, si profilano nuove prospettive all'orizzonte. In pratica, vi attendono occasioni importanti che, con la giusta preparazione, saranno vostre. Segno leone Oggi, un'ondata di entusiasmo e passione vi avvolgerà come un ritmo vibrante. Lasciatevi trasportare da questa energia positiva, senza lasciarvi ostacolare da nulla. Godetevi momenti romantici intensi con la persona amata. Se siete single, le stelle vi favoriranno nelle relazioni sociali, creando un'atmosfera calda e gioiosa. Coltivate i legami con amici e familiari, dedicando loro tempo di qualità. Sul lavoro, le vostre parole avranno un impatto positivo sui colleghi, e già da domani vi sentirete più competitivi. Questa spinta vi aiuterà a raggiungere il tanto desiderato salto di qualità. È ancora necessario mantenere una certa prudenza sul fronte finanziario, ma il cuore può finalmente cantare. Questa settimana potrebbe regalarti emozioni inaspettate e nuove sfide che ti porteranno a grandi vittorie. Coloro che hanno una vendetta personale da ottenere in autunno possono finalmente sperare di ottenere giustizia. Segno vergine Come suggerisce l'oroscopo, potresti sentirti un po' esausto dopo aver affrontato molteplici impegni lavorativi e familiari. Ti piace essere occupato, ma non lasciare che il lavoro ti consumi. Presto troverai la serenità anche in amore. La tua condizione psicofisica, tendente alla stanchezza e all'agitazione, potrebbe essere influenzata proprio dalla tua situazione sentimentale. L'oroscopo di oggi, 8 luglio, vi incoraggia a esprimere appieno il vostro desiderio d'amore. Grazie alla favorevole posizione di Venere, sarete predisposti a vivere una giornata passionale, con un partner profondamente innamorato. Se siete single, aperti al flirt e alla leggerezza, potreste apprezzare un incontro divertente con qualcuno che vi conquisterà con ironia e spensieratezza. Al momento, questa è la vostra priorità, e non cercate altro. Sul lavoro, troverete un rifugio sicuro. Scoprirete che eliminare compiti dalla vostra lista sarà sorprendentemente gratificante. Ultimamente siete diversi dal solito, attività che prima vi piacevano ora vi infastidiscono. Questo è un chiaro segnale che avete bisogno di una vacanza. Prendetevi una pausa dal solito tran tran e dedicatevi a voi stessi. Segno bilancia. Questo lunedì si presenta sotto una luce splendente. In amore, non abbiate fretta, dedicatevi al partner con pazienza e attenzione, curando ogni dettaglio. Se siete single, è il momento di riflettere sui vostri desideri più profondi e di agire di conseguenza. Sul lavoro, mantenete il controllo, non lasciatevi influenzare da chi potrebbe spingervi verso scelte rischiose. Concentratevi sui vostri punti di forza e non permettete a nessuno di distogliervi dai vostri obiettivi. Potresti trovare maggiore tranquillità dopo un fine settimana un po' burrascoso. Tuttavia, è importante mantenere una certa cautela sia nelle relazioni sentimentali che professionali. Non lasciare che le critiche di chi non conta ti facciano vacillare. Impegnati a dare il giusto peso alle parole e alle persone che le pronunciano, e non lasciare che le parole inutili ti facciano stare male. Le previsioni astrologiche invitano a darsi da fare in questo mese di luglio, specialmente se avete in programma un viaggio ad agosto o settembre. Ponetevi nuovi obiettivi e delegate alcune mansioni per alleggerire il carico di lavoro quotidiano. Segno Scorpione La luna è in fase di cambiamento. È importante mantenere la calma nei rapporti interpersonali. Se ti senti soffocato dalla noia nella tua relazione, è arrivato il momento di agire e cercare nuove emozioni per la tua storia. Da domenica prossima, Venere sarà in opposizione. Stai attento, potrebbe essere il momento di confrontarti con il tuo partner e scoprire se la tua relazione d'amore è ancora vitale. L'inizio della settimana promette tranquillità, grazie al favorevole allineamento degli astri. In amore, rafforzate la fiducia in voi stessi e nel vostro partner. Chi ha attraversato momenti difficili potrà ritrovare la serenità impegnandosi davvero, con un po' di sforzo, l'intesa tornerà a fiorire. Se siete single, concentratevi sul vostro benessere personale. Ricaricatevi di energia positiva con una passeggiata nella natura o ascoltando musica che vi piace. Sul lavoro, si prospetta un periodo migliore del precedente. Se ci credete, potrete raggiungere qualsiasi obiettivo con maggiore facilità. Segno Sagittario L'oroscopo 8 luglio si presenta come una giornata stabile, ma con qualche imprevisto inaguato. In amore, non aspettatevi grandi novità. Le coppie potrebbero affrontare momenti di tensione, ma la pace tornerà, come sempre, con un pizzico di magia. Ridimensionate le aspettative e dimostrate pazienza e dedizione al vostro partner. Se siete single, dopo un periodo difficile, le cose iniziano a migliorare. Preparatevi a sedurre, ma prima di tutto, chiedetevi cosa cercate davvero in una persona. Sul lavoro, concentratevi sulle vostre responsabilità e non lasciatevi distrarre da fattori esterni che potrebbero compromettere il vostro successo. Rispetto all'inizio di giugno, quando hai dovuto affrontare molte opposizioni planetarie, ora ti senti molto meglio. Apri il tuo cuore al dialogo e alle manifestazioni di affetto, specialmente nei legami che sono arrivati a un punto di crisi a causa di Saturno dissonante. Hai un grande lavoro da fare, e serve una forma mentis aperta e disponibile. Segno Capricorno Secondo l'oroscopo, oggi gli astri ti spingono a resistere. I conflitti planetari che ti hanno disturbato ultimamente saranno presto risolti. Intanto la luna non sarà più ostile e potrai ritrovare un po' di tranquillità. Quando si tratta di amore, è meglio stare attenti almeno fino a domenica prossima. Lunedì scorrerà nella consueta routine, ma con un tocco di magia. In amore, tutto procederà come desiderato, regalandovi finalmente una sensazione di appagamento. La vostra energia e gioia saranno contagiose, pronti ad accogliere con entusiasmo ciò che la vita vi riserva, insieme al vostro partner. Se siete single, la vostra vitalità sarà al massimo, favorendo un approccio positivo alla giornata. Sul lavoro, troverete soluzioni brillanti e inaspettate, grazie al supporto di persone preziose che vi aiuteranno a realizzare progetti che sembravano irraggiungibili. L'oroscopo del 8 luglio prevede una giornata importante ed emozionante. Fate del vostro meglio in ogni situazione. Anche se un imprevisto potrebbe mettervi alla prova, saprete farvi valere. La fortuna vi accompagnerà per tutta la giornata, sfruttatela il più possibile. Segno acquario Lunedì si presenta sottotono, ma non accusate nessuno se qualcosa non va come previsto. La causa non sarà l'incompetenza, ma il sovraccarico di impegni. In amore, i rapporti di coppia necessitano di un esame attento. Occhio alla prudenza in ambito domestico, soprattutto se avete in programma lavoretti fai-da-te. Se siete single, venere non sarà dalla vostra parte, minacciando l'equilibrio emotivo. Evitate di lasciarvi coinvolgere in situazioni poco chiare che potreste rimpiangere. Sul lavoro, non affrettatevi a prendere decisioni impulsive o scelte azzardate. Le conseguenze potrebbero essere disastrose. È importante essere cauti con il denaro e evitare spese inutili. Luglio è un mese piuttosto complicato dal punto di vista economico. Con Marte in opposizione, potrebbero esserci problemi a livello fisico. Devi riprenderti poco a poco. Ci saranno tensioni in vista per molte coppie in amore. Sarà una questione di denaro per qualcuno, di incomprensioni per altri. Se c'è un sentimento profondo alla base, confrontati col partner con diplomazia e sincerità. Segno pesci. L'oroscopo di lunedì 8 luglio promette un periodo straordinario, sia per l'amore che per il lavoro. Le stelle vi porteranno curiosità e voglia di evasione. In amore, vivrete momenti di grande armonia, offrendo al partner le rassicurazioni tanto attese. In coppia, potrete godervi attività piacevoli, come completare progetti domestici o pianificare qualcosa per le vacanze estive, sempre con l'obiettivo di divertirvi. Se siete single, potrebbe arrivare finalmente una generosa riconciliazione con il mondo intero. La compagnia dei vostri cari vi aiuterà a rilassarvi e a dimenticare le preoccupazioni. Sul lavoro, avrete l'opportunità di mettere in luce le vostre capacità, creando qualcosa di veramente redditizio. Fai attenzione al denaro e alle questioni immobiliari e finanziarie. Rispetto a qualche mese fa, ti senti rinato, hai ritrovato tanta determinazione e stai crescendo dal punto di vista spirituale. L'amore arriva con molti stimoli importanti, non lasciarli cadere. Sembra che serva cautela in tutti gli ambiti della tua vita, quindi abusane pure.